Estra inizia il percorso verso la borsa. L'assemblea dei soci del gruppo energetico Coingassarezzo, Consag Prato, Intesa Siena ha infatti dato il via libera al processo che porterà Estra nel listino di piazza affari. Estra apre un altro punto clienti, è lo store Vea Estra di Massarosa al numero civico 87 di via Papa Giovanni XXIII che in linea con i nuovi store e con la loro cromatica immagine offre tutti i servizi del mondo Estra. Estra fornirà il metano alle grandi stazioni italiane. Estra Energie si è infatti aggiudicata l'appalto Consip di 10,85 milioni di euro per la fornitura agli scali ferroviari gestiti da grandi stazioni rail. Il logo di Estra Prometeo sulle maglie della Lardini Filottrano, il sodalizio anconetano di pallavolo alla sua prima stagione nella A1 femminile. Il gruppo energetico è infatti sponsor della società marchigiana.